qui in mia compagnia c'è Gianluca Brugnoni ciao 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 a tutti social energy tu sei il produttore insieme a social energy e in collaborazione anche con lo studio dorme di smart camp che iniziano questo che sono iniziati questo fine settimana anzi ieri sono iniziati raccontaci un po dunque sì oggi ieri oggi abbiamo iniziato con una preview dello smart camp quindi ieri con i ragazzi di Coder Dojo e oggi con lo show cooking vegano che abbiamo qui alle nostre spalle e l'allestimento e l'orto sinergico su quale faremo poi dei workshop il 18 e 19 luglio che saranno le altre due giornate dedicate qui a Villata all'innovazione non solo tecnologica ma anche sociale diciamo così ambientale 18 e 19 l'appuntamento sarà appunto ricco di workshop dedicati all'innovazione tecnologica con i maker ad esempio abbiamo una collaborazione con Roma makers un fab lab qui di Roma che porterà tutte le strumentazioni che loro hanno a disposizione dalle stampanti 3d laser eccetera e costruiranno insieme a chi partecipa a questi workshop degli oggetti fisici dei portachiavi ma anche per i bambini che costruiranno un'altalena ad esempio sì sarà molto divertente ma anche workshop legati ad esempio all'uso e riuso di materiali di scarto avremo workshop dedicato all'utilizzo del cartone per produrre oggetti di design così come dei workshop dedicati appunto all'orto sinergico e all'orto sul sul balcone per chi vive in in città e tanto tanto altro avremo una parte espositiva con più di 30 espositori provenienti da tutta italia porteranno un solo idea ma anche prodotti dai droni stampanti eccetera e chi ci verrà a trovare potrà toccare gli etere e curiosare e poi tutta l'area ovviamente talk nel quale potremo andare ad approfondire alcuni degli aspetti legati a quella che è l'innovazione appunto tecnologica parte informatica così come appunto al mondo dei dei maker o del mondo delle delle app e tutto ciò che gli gira intorno questi in estrema sintesi beh gli appuntamenti sono veramente tanti e gli argomenti soprattutto sono tantissimi quest'oggi noi abbiamo intravisto lo show cooking vegano dove sta spiegando appunto come realizzare ad esempio dei ravioli e ho visto anche una farinata di ceci che in toscana si usa insomma si mangia spesso anche se non sei vegano diciamo così però è molto molto interessante tra l'altro uno show cooking lungo completo dove uno potrà assaggiare anche quindi alla fin fine testare proprio l'orto sinergico mi incuriosisce tantissimo sì diciamo sono un'associazione ecologia che anche tramite amicizie eccetera collabora con social energy e appunto stanno allestendo quest'orto sinergico quindi un tipo di coltivazione non voglio usare termini poi inappropriati sennò verrò picchiato quindi poi chiedete a loro che vi diranno esattamente ma è un'esperienza bellissima che invito tutti a venire a vedere oggi lo allestiscono quindi chi visiterà villata potrà vedere anche queste piante cresce nell'arco di questi di questi giorni chiedere informazioni e che noi comunque saremo sempre presenti non soltanto nelle successive due giornate dedicato allo smart camp e poi soprattutto potrà partecipare a dei workshop tutti dalle tre alle quattro ore in questo caso dedicato all'orto sinergico o comunque come dicevo prima tante esperienze effettive quindi proprio del fare fatti l'area dell'area del make così come per i bambini e l'appuntamento se uno voleste seguire le attività di social energy il sito di social energy è www.socialenergy.it e ovviamente abbiamo il sito www.smartcamp.it dove troverete tutto il programma di questi giorni dedicati allo smart camp e inoltre ci sarà un workshop organizzato proprio da social energy lo dico io questo così organizzato proprio da social energy che riguarderà il fotovoltaico ovvero la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad isola per cui se vi iscrivete venite allo workshop che si terrà se non sbaglio il 18 di luglio potrete scoprire come funziona un impianto fotovoltaico ad isola come realizzarlo benefici vantaggi eccetera eccetera ragazzi vi aspettiamo a villada con smart camp l'orto sinergico e tantissime tantissime attività grazie grazie a voi grazie ciao